dal vangelo secondo luca lungo il cammino verso gerusalemme gesù attraversava la samaria e la galilea entrando in un villaggio gli vennero incontro dieci lebrosi e si fermarono a distanza e dissero ad alta voce gesù maestro abbi pietà di noi appena li vide gesù disse loro andate a presentarvi ai sacerdoti e mentre essi andavano furono purificati uno di loro vedendosi guarito tornò indietro lodando dio a gran voce e si prostrò davanti a gesù ai suoi piedi per ringraziarlo era un samaritano ma gesù osservò non ne sono stati purificati dieci e gli altri nove dove sono non si è trovato nessuno che tornasse indietro a render gloria al dio all'infuori di questo straniero e gli disse alzati e va la tua fede ti ha salvato grazie a tutti 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 grazie a tutti